La tradizione, le regole del bilancio civilistico oggi non credo che siano più sufficienti. Fare un bilancio di soli numeri probabilmente non ha più quel valore che aveva nel passato. Una maggiore trasparenza, una maggiore soprattutto qualificazione del numero, che significa a fronte di un certo ammontare di risorse quali sono stati i risultati e l'impatto ottenuto. Questo è lo spirito del bilancio di missione. Quest'anno io sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro e lo abbiamo fatto credo nel modo corretto, però abbiamo tenuto ancora separati anche nei tempi oltre che nei modi il bilancio civilistico e il bilancio di missione. Nella strategia nostra dall'anno prossimo vorremmo avere un bilancio unico, che sia un bilancio di missione, dove ci sono naturalmente i numeri ma anche l'impatto. Credo che questo sia veramente un modo moderno di operare. Poi avremo il tema di come comunicarlo, perché qualche volta questi tipi di strutture sono un po' troppo sofisticate nella comunicazione e hanno bisogno invece di trasferire di più a un pubblico più largo questo tipo di risultati. Credo che un risultato per esempio molto interessante è a fronte dell'investimento di un euro, qual è l'impatto che si ha sul territorio? Nel caso della fondazione è 1,25, 1,28, quindi vuol dire un 25-28% in più. Mi sembra un buon investimento, no? Credo che valga la pena di investirci. L'IFPK è fiore all'occhiello della ricerca scientifica in Trentino, scientifica intendiamo quella rivolta allo sviluppo di particolari soluzioni tecnologiche, hanno grandi relazioni con imprese locali, nazionali e internazionali. La loro grande reputazione, la loro grande capacità di produrre ricerca di qualità è attrattiva verso anche operatori internazionali che portano qui i loro lavoratori, i loro operatori per imparare a fare ricerca.